Una curiosa coincidenza che su centinaia di fotografie arrivate il primo e il secondo premio siano arrivate tutte e due a Stigliano. In realtà poi parlando con i colleghi abbiamo scoperto che più che una coincidenza si è trattato della conseguenza di un modo corretto di lavorare della collega di Stigliano. Western Union è diventato un sistema che permette alle persone che devono trasferire denaro in paesi dove i sistemi bancari non sono particolarmente attrezzati di poter consegnare in tempo reale del contante alle persone che devono riceverlo utilizzando un metodo veloce e facile e quindi il concorso è servito anche per riuscire a fare il punto su un servizio che noi riteniamo abbia in questo momento anche un senso sociale nel senso che permette delle persone che oggi vedono la banca come un qualcosa al di fuori delle loro possibilità mi riferisco agli immigrati, tutti gli immigrati provenienti dalle parti povere del mondo di poter invece entrare in banca e diventare attraverso questo sistema dei clienti bancarizzati quindi indirettamente abbiamo raggiunto anche questo obiettivo e siamo molto contenti e ringraziamo anche i colleghi della Popolare del Materano che ci hanno aiutato a portare avanti questa iniziativa.